Non vi fanno mangiare, non vi fanno bere, non diridolietta, è vero o non è vero? No, no, è tutto vero, è tutto vero quello che si vede in televisione. Però Barbara, io non vorrei parlare male di questi che ci stanno adesso, ma io ho più dell'Isola dei Famosi, mi sembra l'Isola dei Falliti. Io non ne conosco nessuno di loro, la conosco soltanto della subiettina. L'anno preso, diciamo, molti sconosciuti, perché forse i VIP sono quelli grossi, non accettano quelli che si devono far conoscere, quindi evidentemente al grande pubblico sono sconosciuti, sì. Allora si dovrebbe chiamare l'Isola dei Probabili Famosi. Esatto, è una vetrina per loro, per loro è una cosa importante, sono disposti a tutto pur di farsi inquadrare. Senti Barbarella mia, io sto pensando una cosa, tu devi sapere che c'è un signore che è schifato di tutto il mondo esterno, di tutto questo che succede, vuole fare un suo reality, si vuole chiudere nel gabinetto, non vuole uscire più.